Ciao Berdastri, ci ho preso gusto per i videotag e ho anche capito cosa sono, credo. Ah, e sono senza capelli. Dunque, nuovo videotag partito dal gruppo Facebook ed Youtube Italia. È un gruppo che raduna molti canali di stampo educational, quelli che vorrebbero insegnare qualcosa a chi guarda i loro video. Anch'io vorrei farlo, e qualche volta ci riesco. Sono stato taggato da Eliana di To The Science And Beyond, un'ingegnere bionda e romana che ne sa a pacchi. Sette domande alla fine. Domanda 1. Che studi hai fatto e come andavi a scuola? Tralasciando la scuola infantile, dopo le medie ho frequentato un istituto tecnico e sono diventato perito informatico. Dopo qualche anno ho deciso di intraprendere il percorso che mi avrebbe portato alla laurea in scienze naturali. A scuola andavo in autobus e poi in treno. Avevo delle buone medie e aiutavo molto gli altri e per questo stavo simpatico a tutti. Domanda numero 2. Quali erano le tue materie preferite? Bisognerebbe dividere la cosa in due. Alle superiori preferivo informatica, la programmazione e l'inglese. All'università ho amato praticamente tutto, tranne forse mineralogia e la fisica. Domanda numero 3. Come è nata l'idea del tuo canale YouTube? Il mio canale è nato dalle esperienze di vita e di lavoro. Volevo portare su video le vicissitudini assurde dei disinfestatori, vissute sulla mia e di amici stretti pelle. Poi mi sono accorto che sarebbe stato riduttivo e quindi ho ampliato ad altri argomenti il canale. Domanda numero 4. Perché hai scelto di condividere le tue conoscenze, passioni, altro? Soprattutto perché il campo zoologia ed entomologia è sconosciuto ai più, con nefande conseguenze che capitano ogni giorno. E con nefande conseguenze intendo raccogliere la processionaria e anche, ma soprattutto, perdere specie per strada tramite la perdita di habitat. Domanda numero 5. Cosa ne pensi dei canali educational su YouTube? Penso che per fortuna esistono. E penso che, data la popolazione molto giovane presente su YouTube, siano estremamente utili a far crescere questi utenti sia dal punto di vista scolastico che nella vita vera e propria. Domanda numero 6. Segui qualche canale edu? Se sì, quali? A fare la lista ci metterei un po' troppo. Me ne sono scritti alcuni, tipo Link for Universe, To Science and Beyond di Eliana, Do You Speak Science, tutto su YouTube, sgrammaticando e anche altri. Dividendoli da quelli naturalistici, Zoo Sparkle, King Gelcard, Missione Rettile, Intomologando, Davide Ruffino, Natura Liguria, De Nibioria, Lai Duerpi in TV, Naturalista Scienze Naturali, Terrarium Channel, Krabbers Italia, ce ne sono tanti. Ultima domanda, che non è una domanda, è taggare qualcuno. Io ho deciso di taggare Zoo Sparkle e assieme a lui Ortolano Production, Valeriano Fatica. Quindi avete un video da fare in più. Con questo concluso, Verda Astri, ci vediamo al prossimo video.